No sta dunque, tiraboloti nella sede di MFK d'entombola o durante la trasmissione di nostro programma radiale d'embario e poporta ganador di 1.3 premio non fabuloso. Nosso saca è promedio premio di Santram Supermarket 10.000 florini na comestibili dia 9 di September prossimo. Sighi nos via di medio non social pa bocchè di informare.